I've been studying today, watching other press conferences, and I figured out if you're supposed to drink this, drink this, or move them, I'm not sure which, so I'll move them for now. Oggi ho pensato, cosa faccio di queste bottiglie? C'è un liquore, c'è un vino, cosa faccio? Le bevo, le sposto, ma per adesso mi limito a spostarle.